Musica Benvenuti da One Piece Massimi Esperti in questo nuovo video teoria, anche se noi, come sempre, portiamo solo la verità. Oggi parliamo nuovamente, perché ce l'abbiamo fatto varie volte, di Zoro, incredibile, le sue abilità da spadaccino, le sue tecniche demoniache e tanto altro. E' importante dire sin dall'inizio che da quando Zoro ci è stato presentato possiede sempre un obiettivo molto ambizioso e allo stesso tempo molto arduo da raggiungere, cioè divenire il più grande spadaccino del mondo. Innanzitutto partiamo dal rapporto speciale, l'abilità innata che Zoro dimostra con le spade, con le katane speciali. Difatti, come ricordate, anche quando prese la sandaikite insieme alla yubashiri, sappiamo bene che la kitetsu era una spada maledetta e che portava infatti sfortuna al possessore. Il venditore, Ipponimatsu, se ne volle liberare a tutti i costi, in tutti i modi possibili. Zoro intuisce e capisce sin da subito che quella non è una spada normale, che essa è speciale e che grazie a essa avrebbe potuto migliorarsi. E di fatti tenta la fortuna, testa la sua fortuna, contrapponendola alla sfortuna della spada. E sappiamo tutti com'è andata a finire. Infatti, vinse la fortuna di Zoro a dispetto di quella spada maledetta. Poi abbiamo visto ora che è arrivata Wano Kuni, come subito ha percepito nelle mani di Luffy quella che è l'anidai kitetsu, invece. La Wanoi Shimonji è la spada della promessa con Quina, che Zoro porterà fino alla fine della storia, che probabilmente dovrà annerire in modo perenne. Sappiamo bene, infatti, che la spada fu forgiata dal maestro spadaio, nonché grande spada a Cina, Kozaburo Shimotsuki. Il caso ha voluto che il medesimo forgiatore fosse anche il creatore di quale altra spada, la Emma. Una delle spade di Kozuki Oden, al pari dell'altra, la Menoha Bakiri. Zoro ha anche appreso il termine sunachi, proprio dallo stesso nonno Kozaburo, che era l'anziano del villaggio da lui menzionato. Sappiamo bene che i diversi membri della famiglia Shimotsuki sono già apparsi nella storia. Ryuma, Yasue, che era l'ex daimio di Akumai, sua figlia Toko, Kozaburo, Koshiro, che era il maestro di Zoro e sua figlia Kuina, Ushimaru, che era l'ex daimio di Ringo, nonché padrone della volpe Onimaru, che, come sapete, poteva trasformarsi in Gyukimaru, il bandito del ponte di Ringo. Naturalmente, tutti questi personaggi, tutti questi Shimotsuki, sono legati a Zoro in modo indissolubile. In più, vi ricordiamo anche i simboli delle spade incrociate sul sopravvito di Koshiro e di Yasue stesso. E questi erano già degli indizi che Oda ci dava nel manga, in tempi non sospetti, di cui noi parlammo molto, molto tempo addietro. Ricordiamoci anche, ancora una volta, che Shimotsuki significa luna gelida. Inoltre, è l'antica parola giapponese che significa novembre, che è lo stesso mese di nascita di Zoro. Naturalmente, Shimotsuki era anche il soprannome legato molto forte a Ryuma, the God's Word. Comunque, detto ciò, per tutta l'analisi approfondita sulle origini di Zoro e il legame Kowano, vi rimandiamo al nostro video precedente, che vi metterò qui nelle schede. Adesso arriviamo, non a uno Shimotsuki, bensì a una Kozuki, Gyori, la figlia di Oden. Essa considera Zoro degno di utilizzare la elma di suo padre. Infatti, dopo averlo visto in azione più volte, prima l'ha salvata da Killer, alias l'assassino Kamazo, poi è entrata in azione alla capitale dei Fiori, prima prova a uccidere Orochi, provando a salvare Toko, e vi riesce, poi combatte contro Yoniwa Banshu, e tutti questi avvenimenti hanno portato la nostra Iori a pensare che Zoro fosse lì per salvare Wano Kuni, soprattutto le generazioni future, Momonosuke, Tama, Toko e tutti gli altri. Adesso passiamo a dei riferimenti storici che si collegano all'allenamento di Zoro. Vi riportiamo un riferimento ad una figura storico-leggendaria del Giappone feudale, la storia di Yoshitsune Minamoto. Possiamo trovare delle similitudini tra questo leggendario personaggio e Zoro. Infatti, molti personaggi hanno tentato di ripetere varie imprese per imitare il grande Minamoto, come One Piece Zoro. Ad esempio, impara a tagliare l'acciaio, quando riesce volutamente a non tagliare le foglie dell'albero, proprio come fece Minamoto. Si narra che Yoshitsune era l'ultimo figlio del signore della guerra Minamoto no Yoshitono. Imparò, sul monte Kurama, l'arte del Kenjutsu, dal re dei Tengu, Sojobo, in One Piece Tenguyama Itetsu, il forgiatore di Katana. Infatti, tramite Tenguyama Itetsu, discendente dei forgiatori delle spade Kitezu, Zoro ha ricevuto nuove informazioni sulle spade. Gli è stato detto che la Emma e la Wado Shimonji sono state forgiate dalla stessa persona, ossia Kozaburo Shimotsuki, ed è anche per questo che Yori gli ha ceduto tale lama, perché aveva capito le abilità di Zoro. Inoltre, Tenguyama ci dice che la Sandai Itetsu e la Ameno Abakiri sono state forgiate da due in persona. Le similitudini tra l'allenamento di Yoshitsune Minamoto e di Zoro, quindi, sembrano molto evidenti. Notiamo che le tecniche utilizzate da Zoro, molte delle quali insegnategli da Koshiro, sembrano provenire proprio da Wano, quindi, sembrano essere tecniche da samurai, come le tecniche utilizzate contro Mr. Wano, appunto. E non può essere un caso, poiché le parole di Yogoro dei fiori corrispondono e coincidono specularmente con quelle di Koshiro. Cioè, una buona spada può tagliare tutto o non può tagliare niente. E, di fatti, può tagliare anche l'acciaio. Naturalmente, la conferma di ciò è avvenuta quando abbiamo saputo che Koshiro era effettivamente proveniente da Wano Kuni, perché era figlio di Kozaburo. Inoltre, via la possibile parentela, anche con Yasuo e Shimotsuki, oltre il cognome, vi ribadiamo, cosa che abbiamo già detto prima, le spade incrociate al simbolo della casata. Notiamo molto bene che le tecniche utilizzate da Zoro, molte delle quali insegnate da Koshiro, sembrano provenire da Wano, quindi sembrano essere tecniche da samurai, come quella utilizzata contro Mr. Wang, come abbiamo già detto prima. Non può essere un caso. Anche le parole di Yogoro dei fiori coincidono esattamente con quelle di Koshiro. Cioè, una buona spada può tagliare tutto o può tagliare niente, tra cui può tagliare anche l'acciaio, come ci ha dimostrato Zoro. Naturalmente, la conferma di ciò è avvenuta quando abbiamo saputo che Koshiro era il figlio di Kozaburo e che quindi aveva un'origine proveniente da Wano Kuni. Inoltre, vi è anche il legame di parentela, che abbiamo già detto prima, probabilmente con Yasuo e Shimotsuki. Oltre il cognome stesso, anche i simboli delle spade incrociate, che rappresentano probabilmente la casata stessa. Per le origini di Zoro, naturalmente, ci siamo già espressi a più riprese, quindi vi rimando al nostro video precedente. Poi ce n'è uno ancora più precedente, e naturalmente ci sono anche delle live ancora più vecchie. Facciamo un piccolo recap, però. Innanzitutto c'è la palese somiglianza con Ushimaru Shimotsuki, nonché ex daimio di Ringo, ma anche il collegamento con The God's Word Ryuma è sotto gli occhi di tutti, la palese somiglianza nell'aspetto dei due personaggi, inoltre è molto importante anche il cognome di Ryuma Shimotsuki, ma anche le tecniche utilizzate che sono simili a quelle di Zoro. Molto interessante notare che cosa? Che Ryuma, che fu il più grande spadaccino, il più grande samurai di Wano Kuni, possedeva una spada, la Shusuri. Dopo di lui, il più grande samurai di Wano Kuni era Oden, e possedeva due spade, la Emma e la Menoha Bakiri. Infine è arrivato Zoro, che doveva diventare il più grande spadaccino del mondo, ma anche sotto alcuni aspetti samurai, perché delle origini abbiamo già parlato ampiamente, e ne ha ben tre di spade. Quindi è come se Zoro fosse un'evoluzione, un'unione, un completamento di Oden e di Ryuma nella narrazione presente. Soprattutto non è un caso che Zoro ha posseduto sia una spada di Ryuma, cioè la Shusui, che adesso una di Oden, cioè la Emma. Ed è importante che anche, che lui è un utilizzatore di più katane e di più stili di combattimento. Stile di combattimento incredibile. Hittorio, Nitorio, Santorio. Zoro è uno dei pochi in tutto il Magno, naturalmente abbiamo visto Oden Style, Nitorio. È importante sapere anche che Zoro ha imparato a tagliare il fuoco. Per notare questa cosa è molto, molto importante, e lui ha imitato la tecnica di Kinemon. La Kitsune, Biryu, Omurasaki. E questo ci mostra oltremodo le grandi abilità come spadaccino di Ronoroa, Zoro. Adesso ci stiamo avvicinando alle situazioni attuali, quindi se fosse nuovi iscritti e non siete in pari con il manga, fate attenzione a ciò che vi sto per dire. Negli ultimi capitoli Zoro ha attaccato più volte Kaido. Il primo attacco con la tecnica a tre spade non ha assortito gli effetti sperati. Il secondo attacco invece, quando tenta di colpire Kaido con la tecnica di una spada a Littorio, l'attacco che ne fuoriesce è potentissimo, è incredibile, ed è il medesimo che Zoro utilizzò per battere Ryuma a Thriller Bark. Ci riferiamo all'Iryuken. In realtà bisogna dire che tale attacco, tale posizione, è identica a quella di Ryuma quando quest'ultimo si apprestò a decapitare un drago nella sua opera, Monster. Qui ci fa ridondante quella che è la questione della volontà. Se vi ricordate bene, è una scena molto importante dello scontro fra Zoro e Ryuma appunto. Le ultime parole dell'antico samurai di Wano Kuni furono Se sarai tu il prossimo padrone della Shusui, lo sarà anche la sua volontà, cioè la volontà della spada. O ancora, Kawamatsu, una frase molto importante quando vi si ritrovavano a Ringo. Durante la battaglia, disse Kawamatsu, gli uomini impugneranno le katane dei loro compagni caduti e gli spiriti, le anime che risiedono in quelle spade, daranno loro una forza aggiuntiva, gli daranno più coraggio per sconfiggere i nemici. In un certo senso è come se volessero dire che sono le spade a scegliere e riconoscere il possessore. Ora facciamo un piccolo recap di quello che ha fatto fino ad oggi Zoro, velocemente. Molto importante è rifarci anche a un altro discorso. Ci riferiamo allo sconto fra Zoro e Mr. One, di cui abbiamo parlato poc'anzi. Si parla infatti della questione di poter tagliare il tutto e il niente. E Zoro ci parla anche del respiro delle spade, mostrandoci come la sua lama potesse non tagliare le foglie di un albero, ma con un solo fendente invece riuscisse a tagliare un'enorme roccia. Ricordando così gli insegnamenti di Koshiro. Zoro contro Mr. One, probabilmente, utilizzò inconsciamente il riuo, ossia questo hachi avanzato, con la concentrazione e con l'istinto, in una situazione estrema. Ricordatevi che il riuo significa hachi della formatura all'interno del paese di Wano Kuni. Mentre adesso sicuramente lui sta riuscendo a padroneggiare questo tipo di hachi, che viene infuso nelle lame. Ancora di più, con il suo breve allenamento, ma intenso, con la famosa spada, la Emma. La spada che taglia fino agli inferi. E Tenguyame Tetsu ha detto che Zoro probabilmente potrà annerire completamente la Emma, finendo questo processo. Infatti, Zoro è riuscito anche a ferire Kaido. La Emma possiede ancora lo spirito, la volontà di Oden, ma non è quello che permette a Zoro di ferire Kaido, bensì il suo hachi che viene sprigionato da tale spada. Infatti, sappiamo che la Emma è speciale, ma non è Oden a tagliare Kaido, bensì Zoro. Mi spiego. Nel capitolo, Kaido percepisce uno strano hachi venire fuori dalla Emma e dopo che viene tagliato, dice, uh, ma quella è una delle spade di Oden. Quindi, Kaido percepisce fuori uscire questo hachi, ma l'hachi della Emma, l'hachi che è la Emma attira più di quanto deve attirare, risucchia più di quanto deve risucciare e taglia più di quanto deve tagliare. È un hachi che ha Zoro. Se Zoro non avesse quell'hachi, Emma non potrebbe risucciare nulla. Quindi, per favore, non facciamo, uh, gli sfogliatori dell'anime, ma cerchiamo di fare i massimi esperti, i guampi sinitali. Comunque, Zoro prima dell'allenamento non poteva utilizzare Emma in modo efficace. Ciò ha comportato che Zoro si è dovuto allenare per la gestione e l'equilibrio della potenza della Emma e allo stesso momento dell'achi dell'armatura. Quindi, sicuramente, ha aumentato Zoro il suo potenziale in modo esponenziale, grazie alla Emma, naturalmente, e grazie a se stesso. Nei dettagli, nei dettagli, tornando quindi alla Emma, sappiamo che sarà forciata la Kozaburo, ce lo dice Tenguyame Tetsu. Sappiamo bene che ha una caratteristica molto importante questa spada. Cioè, essa assorbe più a chi dell'armatura, più Ryuo dell'utilizzatore, a prescindere dalla sua volontà, e taglia più di quanto si desideri. Sappiamo bene anche che fino a quel momento l'unico che era riuscito, che era in grado di possederla, di utilizzarla, fosse Oden Kozuki. E ora è passato nelle mani di Zoro. È importante vedere che Zoro la sta sfruttando abbastanza bene. Infatti, oltre ad averla achizzata, sembra non subire ripercussioni sul suo braccio, come avvenne la prima volta. Anche se comunque, sembrava leggermente affannato, naturalmente, perché sta consumando il suo achi dell'armatura. Quindi, riuscendo a controllare la Emma, il nostro nono a Zoro dimostra ancora una volta di possedere una grande volontà e una grande maestria. Infatti, si appresta ad apprendere forzatamente, e anche perfettamente l'utilizzo di questo achi avanzato, padroneggiando la leggendaria Emma, la spada capace di tagliare fino agli inferi. Naturalmente, la presenza di Zoro sul tetto, oltre ai vari legami già spiegati, si sintetizza anche nel far sì che tale spadaccino possa infliggere una ferita permanente a Kaido, pari a quella che gli fece il leggendario Oden Kozuki venti anni fa. Con la differenza che stavolta non ci sarà solo Oden che verrà buttato giù, ma ci sarà un certo Mugiwara, Norufi, che ne approfitterà per dare il colpo finale all'imperatore. Incredibile! Questione in l'azione a chi del re. Noi crediamo che in futuro Zoro possa sviluppare tale potere perché ha dimostrato di avere un grande obiettivo, cioè diventare il più grande spadaccino del mondo, perché ha una fortissima determinazione. L'Achi del re si muove a seconda del suo possessore, della volontà della persona e Zoro la sta rafforzando sempre di più. Naturalmente, lo spavento preso da Quinn e la battuta di Brooke nel capitolo 997 possono dire tutto, possono dire nulla. Lì, infatti, Zoro non ha utilizzato l'Achi del reconquistatore, ma potrebbe essere un monito di oda per il futuro. Tornando indietro, molto interessante anche Puncazzard, no? Quell'avvenimento molto, molto strano quando Zoro riuscì a immobilizzare Monet prima di finirla, insomma, di tagliarla. Piccola curiosità extra. Allora, in un certo senso lei danzia a Wanokun. Si apro con un piccolo fendente di Zoro. Pronostichiamo che Zoro comunque sarà protagonista per la conclusione della battaglia insieme al suo capitano. Per l'avvenimento, in sottofondo, ascoltammo la melodia di Yoriko Murasaki e molto probabilmente la melodia è proprio la principessa della luna. Tale sinfonia, Yori la suonava per suo padre, Oden Kozuki, nel lontano capitolo 973, quando ella era una bambina. Speriamo quindi di riascoltare tale melodia alla conclusione dell'ultimo atto di Wanokuni, quando si calerà finalmente il sipario e si celebrerà l'apertura di Wanokuni al mondo e il funerà della leggenda Kozuki Oden. Se siete arrivati fino a qui, dite hashtag Zoro protagonista di Wan. Vi lascio qui il video precedente dove abbiamo parlato ampiamente delle origini di Zoro e quindi dovete guardarlo. Vi ricordo innanzitutto se siete nuovi utenti di iscrivervi al nostro canale YouTube, di attivare la campanella perché è importante se la attivate tutte le notifiche che riceverete. poi passare sempre dai nostri video e dalle nostre live che vi lascio qui in descrizione come sempre. Naturalmente passate anche da Instagram iscrivetevi dalle nostre due pagine Facebook da Telegram dalle nostre collaborazioni. C'è una novità abbiamo aperto gli abbonamenti sfogliatore dell'anime lettore di Topolino vicino alla verità e solo alla verità a voi scegliere su quale ambito specializzato. Detto questo ancora una volta noi abbiamo detto solo la verità. Ora tocca a voi fare qui un commento anche da sfogliatore e ne ho grande piacere vi massimizzeremo come sempre.